ah no mi spiega anche a me perchè ti sei fermato di un cane che stai salendo vai indietro vai indietro bomba vai indietro un po dai vai giù vai giù prendi la più deciso che vieni su non fermarti lì vai indietro il bagno vai indietro il bagno vai indietro il bagno alberto non è che ci viene su di lì oh 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 di dio oh di dio vai indietro dai vai indietro oh di dio guarda Aldo guarda che c'è la parte che va eh Aldo lascia andare lascia andare che va dai 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 abbiamo dei problemi con Don Lurio su una protoferozza che c'è una problema di conca vediamo adesso che Don Lurio partirà a Cannella vai Don Lurio vedete che è partito è partito è partito è un manico e ce la fa pronto per rotta è un manico è un manico è un manico è un manico Grazie.